Benvenuti nel video tutorial CPUI. Inserimento, nuova domanda, utenza idrica. Il sistema integrato di polizia idraulica e di utenze idriche, CPUI, è un software finalizzato sia alla gestione delle concessioni demaniali lungo il reticolo dei corsi d'acqua della regione Lombardia, polizia idraulica, sia alla gestione delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica situate nel territorio regionale, utenze idriche. L'accesso al sistema avviene previa registrazione e autenticazione al portale dei tributi di Regione Lombardia. Accedere al portale tributi www.tributi.regione.lombardia.it Selezionare l'area personale e autenticarsi tramite una delle modalità proposte dal sistema. Per accedere con carta nazionale dei servizi, inserire la tessera nel lettore di Smartcard collegato al PC e cliccare su Entra con CNS. Selezionare il proprio certificato. Cliccare su OK. Digitare il PIN e confermare con OK. Autorizzare il trasferimento dei dati e cliccare su Sì alla voce Si desidera continuare per accedere all'area personale del portale Tributi. Selezionare Accesso a CPUI dal menu di sinistra. Si apre la pagina di accesso di CPUI. Nell'header il sistema riporta i dati dell'utente che ha effettuato l'accesso. A sinistra è presente il menu di navigazione con tutte le funzioni disponibili per la gestione delle domande e concessioni utenze idriche. Il sistema riporta, se presenti, le concessioni a lui associate e i pulsanti di ricerca e creazione di nuove domande. Per iniziare la compilazione della domanda selezionare il pulsante Crea nuova domanda, utenze idriche. Viene proposta una compilazione guidata suddivisa in 13 passaggi. Vediamoli ora nel dettaglio. Tab 1 Dati del richiedente Indicare se si sta compilando la domanda per se stessi per conto di un'altra persona fisica oppure per conto di una persona giuridica. Inserire il codice fiscale o la denominazione del soggetto di cui si intende inserire i dati e avviare la ricerca. Se il soggetto è presente nell'anagrafe tributaria, la scheda verrà compilata con le informazioni presenti a sistema. Se la ricerca ha avuto esito negativo, inserire i dati anagrafici richiesti. Si ricorda che è necessario completare tutti i campi obbligatori contrassegnati da asterisco. Al termine della compilazione, selezionare Avanti per procedere con il passo successivo. Tab 2 Sedi del richiedente La pagina mostra le sedi legate al soggetto richiedente. È obbligatorio completare i dati della sede di residenza ed è possibile inserire ulteriori indirizzi. Selezionare Modifica per completare i dati della residenza. L'indirizzo inserito verrà visualizzato nella tabella riassuntiva. Per inserire altre tipologie di sede, selezionare il link Aggiungi altra sede. Terminata la compilazione di tutti i campi obbligatori, il nuovo indirizzo inserito viene mostrato all'interno della tabella Elenco sedi. Proseguire con Avanti Tab 3 Soggetti del richiedente La pagina visualizza il riepilogo dei soggetti legati alla domanda di concessione dell'utenza idrica e permette di inserire ulteriori soggetti. Nell'elenco sono sempre presenti un soggetto con ruolo Primo compilatore impostato automaticamente dal sistema in base ai dati di accesso. Un soggetto con ruolo Primo richiedente i cui dati sono ricavati in base a quanto inserito nel tab 1 Dati del richiedente Cliccare su Aggiungi nuovo soggetto per procedere con l'inserimento. La modalità di ricerca è la medesima mostrata per l'inserimento del richiedente. Indicare il ruolo e completare gli ulteriori dati richiesti. Al termine proseguire con avanti. Tab 4 Dettaglio domanda La pagina richiede la compilazione delle informazioni generali della domanda di concessione. Indicare Il tipo di pratica selezionandola tra le voci proposte nel menu a tendina L'autorità competente L'oggetto della domanda e completare gli ulteriori dati richiesti. Selezionare avanti per proseguire. Tab 5 Titolari In questa pagina In questa pagina viene mostrato il riepilogo dei titolari della concessione. Nel caso di più soggetti è necessario specificare per ognuno le percentuali di titolarità e di pagamento. Il link Inserisci nuovo soggetto consente di aggiungere nella griglia dei titolari uno dei soggetti precedentemente censiti nel tab 3. Questo link non è presente se il richiedente è l'unico soggetto registrato nel sistema. Al termine della compilazione selezionare avanti per proseguire. Tab 6 Progettista La pagina permette di inserire i dati anagrafici del progettista o ve richiesto. Specificare tramite la selezione delle voci se richiesto o non richiesto. Scegliendo l'opzione richiesto inserire il codice fiscale o la denominazione del progettista per avviare la ricerca tra i dati presenti a sistema. Al termine della compilazione proseguire con avanti. Tab 7 Opere La pagina permette l'inserimento di una o più opere per cui si sta richiedendo la concessione. Selezionare il link Inserisci Nuova opera utenza idrica Indicare la tipologia tra quelle proposte nel nostro caso Pozzo e premere Crea opera utenza idrica. Si apre la pagina modifica per l'inserimento di tutti i dettagli relativi all'opera Localizzazione Usi Note e dati specifici della captazione. Per inserire i dati di ogni sezione è necessario cliccare sull'icona Più per espandere le sezioni di riferimento. Nella sezione Localizzazione i dati relativi Istat Comune e Provincia vengono precompilati tramite la ricerca Localizzazione. Completare gli ulteriori dati obbligatori presenti. I restanti campi grigi non modificabili verranno compilati e visualizzati correttamente a seguito della geolocalizzazione dell'opera. Nella sezione Elenco Usi selezionare il bottone Nuovo uso per aprire la maschera di inserimento. Confermare i dati tramite il pulsante Salva e Chiudi. La sezione Dati Pozzo è opzionale e fornisce ulteriori informazioni a supporto della domanda. Terminata la compilazione di tutti i campi delle sezioni premere Salva. Cliccare nuovamente il tab 7 per permettere al sistema di processare i dati inseriti. Le opere inserite verranno mostrate nella tabella di riepilogo. Premere il link Geolocalizzazione domanda per collocare sulla mappa tutte le opere indicate. Si apre il viewer geografico di Regione Lombardia tramite il pannello Ricerca utenza idrica. È possibile individuare in maniera puntuale la posizione in cui verrà realizzata l'opera. A titolo di esempio utilizziamo la funzione Ricerca per indirizzo. Compiliamo i campi proposti e avviamo la ricerca. Il sistema evidenzia con un punto rosso la posizione ricercata. È possibile modificare la vista sulla mappa scegliendola dal menu a tendina. Nel pannello Inserisci domanda è presente l'elenco con tutte le opere inserite. anche di precedenti domande. Cliccare sull'icona Editing dell'opera. Attivare lo strumento di disegno per tracciare il punto in corrispondenza dell'opera da geolocalizzare. Il punto viene evidenziato in verde sulla mappa. Premere Salva e confermare l'inserimento per uscire dal viewer geografico e tornare a CPUI. In alternativa è possibile è possibile identificare il punto tramite l'inserimento delle coordinate. Cliccare sull'icona Editing dell'opera. Attivare lo strumento per l'inserimento manuale. Digitare le coordinate nella finestra e premere OK. Il punto viene evidenziato sulla mappa in verde. Confermare con Salva per tornare a CPUI. Proseguire con avanti. Tab 8 Usi La pagina mostra in sola visualizzazione una tabella di riepilogo degli usi inseriti nelle pagine precedenti. Presa visione Proseguire con avanti. Tab 9 Documenti allegati In questa pagina è necessario allegare tutta la documentazione prevista per la presentazione della domanda di concessione. Selezionare Carica per accedere al modulo di caricamento. Completare le informazioni richieste e premere Scegli i file per selezionare il file dal proprio PC. Si ricorda che qualora si abbia la necessità di inserire più allegati per una stessa tipologia di documento si prega di comprimerli in un unico file prima di caricarli a sistema. Confermare con Salva è necessario procedere nello stesso modo per allegare tutti i documenti richiesti. Al termine del caricamento dei documenti proseguire con avanti. Tab 10 Salva bozza verifica dati. In questa pagina l'utente può eseguire una delle seguenti operazioni il semplice salvataggio dei dati inseriti la verifica dei dati immessi l'avvio della procedura di presentazione. È necessario selezionare l'opzione corrispondente e premere il tasto Esegui. Attivando l'opzione di verifica il sistema controlla la presenza di errori di compilazione. In caso il sistema riscontri dati non corretti e o mancanti viene generato un link per accedere direttamente alla pagina per procedere alla rettifica dei dati. Se il sistema non riscontra errori viene generato un modulo facsimile della domanda scaricabile tramite l'apposito link. La terza opzione permette di confermare la domanda di concessione e avviare la procedura di presentazione. Eseguendo quest'azione la domanda non sarà più modificabile. Proseguire con Avanti. Tab 11 Invio In questa pagina viene specificata la modalità con cui presentare la domanda di concessione all'autorità competente. Si ricorda che l'unica modalità di invio è quella digitale. Proseguire con Avanti. Tab 12 Imposta di Bollo Indicare gli estremi del pagamento e caricare la scansione del frontespizio della copia della domanda stampata con apposta la marca da bollo annullata. Selezionare il campo Dichiarazioni e proseguire con Avanti. Tab 13 Termina Invio Questa pagina conclude la procedura guidata di presentazione della domanda di concessione tramite l'invio della domanda al protocollo dell'autorità competente. Scaricare il modulo domanda tramite l'apposito link. Firmarlo con firma elettronica avanzata tramite CNS o altro dispositivo di firma compatibile e caricarlo a sistema. Qualora si voglia utilizzare la CNS CRS per firmare il documento procedere come segue. Attivare il software CRS Manager scaricabile gratuitamente dal sito di Regione Lombardia. Inserire la tessera CNS nel lettore collegato al PC. Selezionare la voce Firma documento e cliccare sull'icona cartella. Si apre la maschera per la selezione del documento da firmare. Individuato il documento è necessario inserire il PIN Firma. Un messaggio indica l'esito dell'operazione. Tornando a CPUI premere il pulsante Scegli file per selezionare il documento firmato e cliccare su Carica domanda firmata per completare l'operazione. Un messaggio confermerà l'esito dell'operazione. Al corretto invio della domanda l'utente vede visualizzata una ricevuta virtuale. Esempio La domanda è stata inviata alla provincia di Milano. La data di presentazione è Quando la provincia prenderà in carico la domanda mediante registrazione con protocollo il sistema aggiungerà una riga che indicherà data e numero del protocollo con la quale la provincia ha ricevuto la stessa. Verrà inoltre inviata una mail riportante data e numero di protocollo al contatto email del soggetto richiedente. All'accoglimento della domanda da parte dell'autorità competente l'utente riceverà una mail di avviso.